Grazie a lui. Tanti anni fa il grande Mogol, proprio durante le vacanze trascorse a Silvi, trasse l'ispirazione per scrivere la famosissima La Canzone del Sole. Oggi proprio questa canzone dà il titolo al premio che si svolgerà martedì prossimo nel comune Silvarolo con inizio alle ore 21 in Piazza dei Pini, sul Lungomare. Ascoltiamo il sindaco, Gaetano Vallescura. Mogol è cittadino onorario della nostra città, l'anno scorso gli abbiamo conferito la cittadinanza onorardia, quindi abbiamo iniziato questo progetto insieme a lui. Tante cose legano Mogol a Silvi, così come l'ispirazione da lui stesso affermato, dell'ispirazione per la realizzazione della canzone del sole, tant'è che noi abbiamo questo evento, l'abbiamo così intitolato La Canzone del Sole, Mogol cittadino di Silvi. Abbiamo l'ambizione, anche quest'anno, dall'anno scorso siamo partiti, sembra ancora in punta di piedi, con l'ambizione di riuscire a realizzare veramente un evento, una manifestazione a livello nazionale, facendo promozione di quella che è la cultura musicale, dell'arte della musica per giovani autori, con l'ambizione di chi si aggiudicherà a questo premio di poter partecipare a Sanremo. Ma da qui anche cercheremo di condottare il Comune di Sanremo, vedere se ci sono le condizioni per fare un gemellaggio con le città di Sanremo, nei rispettivi ruoli, come città di mare che promuovono la musica, allo stesso tempo anche il proprio territorio, visto che sono cittadine che vivono di turismo. Non solo persigli.